Allora, signorina Canavella, palenzo, sorella, sales. Sì, ma... Io, John Branding, ce l'ho qui, c'è un'altra... Ah, io subito vado a prenderlo, John Branding è qui, si è un minuto. Eccolo qua, ma non è qui, ma non è qui, ma non è qui, ma non è qui, ma non è qui. Signori, John Branding! Allora... Io ti giuro che non lo so, penso che mi hanno fatto qualche feriscamentissimo, tieni! Che bello! Che bello! Ma che è che è quello che mi fa male, lui! Allora, lui è qui per sosteggiare un aperitivo, ha il tuo ammalato un'ora, e tu ce la vivi di un bel piano, prego! Ciao, John! Ma dove vai, John? Non puoi che... Non puoi che... Ciao! Ciao! Ehm, ti voglio fare un aperitivo? Ah, che figo! Non ho solo, non ho ammalato! Non ha solo, non è... Non ha solo, non è... E' tutto e figo! E' tutto e figo! Posso dirti qualcosa d'altro? No! Ehi! 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 Ehi, ma una compatta non fima! Ehi! Ehi! grazie